Il ruolo della democrazia cristiana nella storia dell'Italia repubblicana è al centro del volume DC, il partito che fece l'Italia, scritto da Giovanni Di Capo e Paolo Messa. Il libro è stato presentato nella sala delle feste di Palazzo Bastoggi a Firenze. Un partito capace di coinvolgere artigiani, ceto medio, contadini, impiegati, operai e capace anche di dare ascolto ai partiti laici democratici. Ma sentiamo le parole di uno degli autori, Paolo Messa. Ricordare la democrazia cristiana non è un'operazione nostalgia, semmai un'operazione storica, di memoria, ma anche di riscoperta dei valori della politica, dell'alta politica. In un momento in cui è all'opera, peraltro credo con successo, un governo tecnico, bisogna pensare che non si può sospendere la democrazia e i valori della cultura politica.